Wewe ragazzi e bentornati nel rapporto di stato casa base del 10 settembre 2020 Per chi di voi avesse controllato il sito e non trova le patch notes sappia che sono state aggiunte semplicemente alle patch notes precedenti quindi non dovete cercare un nuovo post ma semplicemente scendere in basso a quelle che erano le patch notes precedenti la prima cosa che ci viene fatta notare è il nuovo pacchetto di salva al mondo quello di cui abbiamo visto il video ieri se foste maggiormente interessati appunto vi invito a vedere il video di ieri a partire da martedì 8 settembre presenteremo il nostro secondo pacchetto salva al mondo della serie il pacchetto samurai scatenato sostituendo il pacchetto leader squadra metallo il pacchetto samurai scatenato presenta un nuovo eroe il progetto arma lancia scatenata il dorso decorativo sashimono scatenato le sfide samurai scatenato e l'accesso a salva al mondo con queste esclusive sfide salva al mondo potrete ottenere fino a 1000 V-Bucks e 1000 biglietti raggi X da notare che gli oggetti estetici di questo pacchetto saranno condivisi nelle modalità di gioco battaglia reale, salva al mondo e creativa e non avrà alcun impatto sulle ricompense di accesso giornaliero già esistenti per i fondatori o sui loro V-Bucks guadagnati che sono in esclusiva per i fondatori con accesso anticipato settimana 2 la vostra prossima avventura grandiosa stagione avventura Exylvania è ora di farsela sotto comandanti la prossima stagione avventura salva al mondo inizia non l'8 ma il 10 settembre il modificatore della zona avventura Exylvania è un terrificante modificatore agittata ridotta la gittata per chi di voi non lo sapesse è la distanza che percorre un proiettile diciamo prima di perdere potenza le energie inquietanti delle nebbie di Exylvania proteggono gli abietti riducendo i danni che subiscono da armi, abilità e trappole affrontate questo modificatore inviando comandanti o difensori robusti nel raggio di due unità dagli abietti per eliminare il loro incremento quando i comandanti si trovano nel raggio gli abietti subiranno il 50% dei danni in più quindi già mi viene da pensare che sia un meta da mischia anche d'assalto ma comunque bisogna tenersi a distanza ravvicinata poi questo lo vedremo bene nel dettaglio i nemici potrebbero anche rilasciare pozioni curative quando vengono sconfitti aiutandovi a recuperare le energie dopo averli affrontati a distanza ravvicinata perciò tirate fuori le vostre creazioni a corto raggio preferite e fate attenzione alle armi da mischia e ai fucili pesanti in confronto all'ultima stagione in questa stagione ventura Exylvania abbiamo aumentato le ricompense e potrete sbloccare i super caricatori ai livelli più bassi non avete mai giocato alle venture? come prima cosa assicuratevi di consultare il nostro blog sulle venture per un veloce riassunto attenzione sfortunatamente Apple sta bloccando gli aggiornamenti di Fortnite alla nuova stagione ventura questo a noi non interessa ritorna alla serie di incarichi Fortnite l'incubo Vlad è tornato a diffondere il caos e abbiamo bisogno del vostro aiuto per farlo ricadere nel suo sonno eterno completa questi eventi agghiaccianti per sbloccare un po' di dolciumi oro ed eroi il tramonto porta con sé il sifone le creature della notte sanno dare dei bei morsi i suoi vantaggi sono rispettivamente scattare tra i nemici con la traslazione fasica cura 12 e 36 come comandante di salute base per ogni nemico superato e poi ritornerà anche Igor medico della peste il suo vantaggio standard e quello comandante diminuiscono semplicemente il costo energetico del fumogeno e sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dall'11 settembre alle 2 poi settimana 3 il ritorno della lama nera lanciatevi sugli abbietti e mostrateli chi è il vero boss dei fantasmi con la più oscura delle armi oscure una spada imponente con impatto elevato e danno moderato che aspetta soltanto voi questa lama sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 18 settembre comandanti potreste aver notato un cambiamento nel livello di potenza del giocatore a partire dall'aggiornamento 14 abbiamo fatto delle modifiche ai livelli di potenza al fine di sostenere i supersiti promossi e i supercaricatori delle prossime stagioni ventura inoltre abbiamo corretto alcuni bug che influivano sul calcolo dei livelli di potenza che ora risultano molto più precisi nello stabilire quali sono i contenuti adeguati alle statistiche forti sono stati aumentati drasticamente anche i livelli degli abietti sopra il 140? niente paura comandanti se da un lato i nuovi livelli descrivono meglio la loro potenza relativa il cambiamento è legato solo all'interfaccia utente e alla visualizzazione ma i loro danni salute non sono stati modificati come abbiamo già visto anche nel video in cui già vi spiegavo questo dettaglio è solo cambiato il numerino che hanno in testa la loro vita la loro resistenza il loro danno che effettuano quando attaccano non è cambiato assolutamente di una virgola non perdetevi il prossimo rapporto di stato casa base per scoprire altre informazioni su serie di incarichi eventi ed eroi ci vediamo ad xylvania ed è tutto qui ragazzi quindi ve lo ripeto se state cercando il post con le patch notes dovete semplicemente riaprire le patch notes precedenti è stato semplicemente aggiornato il post quindi vi basterà scorrere in basso e troverete tutte queste informazioni quindi ragazzi abbiamo le venture nuove dobbiamo solamente cercare di sbloccare tutti i super caricatori questo è un consiglio che vi do su tutte le venture ovviamente più super caricatori sblocchiamo e più in fretta lo facciamo meno stagioni dovremo aspettare per raggiungere il livello massimo oppure meno stagioni dovremo aspettare anche per potenziare armi fino al 150 fino al livello 60 comunque intendo e niente ragazzi questo è quanto io spero di essere stato abbastanza chiaro mi raccomando se avete ulteriori domande siete liberi di farmele qua sotto con un commento io vi ringrazio tutti di essere arrivati fino a qui a guardare il video noi comunque ci vediamo col prossimo episodio bella bella ciao ciao Grazie a tutti